titoli di coda alla cappa d'afa in arrivo temporali e calo termico in un ristorante di monte porze un pitbull uccide un barboncino e ferisce i padroni incidente di ferragosta piobbico donna salvata con massaggio cardiaco pesaro guarda oltre il turismo balneare obiettivo destagionalizzazione per ap hotels 35 anni di università dell'età libera ripartono i corsi con novità nelle iscrizioni una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv riparte rossini news dopo la pausa di una serata dedicata al ferragosto rieccoci con l'informazione serale delle canale 80 in questo telegiornale di venerdì 16 di agosto che apriamo occupandoci della situazione meteorologica nel nostro territorio in cui sembra i titoli di coda la cappa d'afa che di fatto ha accompagnato praticamente l'intero mese d'agosto per domani la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per temporali in tutta la fascia costiera e collinare della regione da domenica è atteso anche un sensibile calo termico precipitazioni che di fatto sono già cominciate nel primo pomeriggio di ferragosto nelle aree interne della provincia fenomeni attesi soprattutto per l'approvvigionamento idrico e la situazione critica dei bacini della provincia in via di prosciugamento precipitazioni che però non è detto che producano quelle mareggiate attese dal mare adriatico fortemente condizionato dalle mucillagini un fenomeno che comunque ha registrato un lieve miglioramento a macchia di leopardo sia nella giornata di ferragosto che in quella odierna riportando più bagnanti sulle spiagge pranzo di ferragosto davvero scioccante in un hotel ristorante di monteporzio dove all'uscita del locale un pitbull che era legato ad un palo ha aggredito e azzannato un barboncino appartenente ad un gruppo di anconetani a pranzo che lo tenevano al guinzaglio il piccolo cane purtroppo è morto dissanguato e il padrone è rimasto ferito alle mani e alle gambe dopo la caduta è scoppiato un violento alterco che ha richiesto l'intervento dei carabinieri per essere sedato e per identificare il proprietario delle pitbull e ferragosto è stato segnato anche da un grave incidente stradale che ha coinvolto bene tre veicoli e sei persone accaduto nel pomeriggio a piobbico in seguito ad uno scontro fra due auto sulla provinciale 257 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cagli per estrarre una donna dalle lamiere del veicolo donna alla quale i sanitari del 118 hanno praticato un massaggio cardiaco sul posto di fatto salvandole la vita nell'incidente sono accorse ben quattro ambulanze e l'elisoccorso oltre ai carabinieri di urbino per i rilievi e sempre a piobbico ieri pomeriggio un anziano affetto da demenza senile è fuggito dall'rsa in cui era ospitato l'uomo è stato ritrovato vicino a un corso d'acqua della zona dai vigili del fuoco dopo sei ore di ricerca e a pesero il turismo cerca di guardare oltre il problema delle mucillagini che ha fortemente condizionato l'estate balneare un obiettivo di destagionalizzazione che è proprio del nuovo mandato di marco filippetti come presidente degli albergatori pesaresi Marco filippetti presidente app hotels dalla fine di giugno ha iniziato un percorso per migliorare l'attrattività soprattutto di pesero come destinazione turistica sì intanto ho ereditato comunque un'associazione diciamo in buona salute è mio dovere continuare a cavalcare questa 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 modalità stiamo lavorando soprattutto con progetti futuri per soprattutto presentare dei progetti all'amministrazione e al comune per cercare di comunicare meglio la destinazione pesero ecco pesero ha un suo focus sul periodo estivo essendo località balneare però si cerca di guardare oltre assolutamente sì pesero non deve essere una destinazione solo mare come ho detto poi nel discorso del mio insediamento la condivisione la collaborazione tra anche associazioni diverse ma anche paesi dell'entroterra possono fare molto e lavorare nella maniera giusta per cercare di attrarre quel pubblico che non cerca solo mare ma cerca anche bellezza dell'interno il percorso di capitale della cultura discutibile o meno comunque ha aperto una strada diversa una strada anche dal punto di vista culturale che può fare gioco a questo obiettivo sì pesero 2024 comunque ha dato una grossa una grossa risonanza a pesero bisogna assolutamente cavalcare questa questa forma o questo target di clientela che è inerente alla cultura e siamo diciamo anche qui stiamo buttando giù progetti per cercare poi perché il target culturale appunto va in quella in quella direzione della destrugionalizzazione quindi non cerca solo mare ma anche ottobre novembre o magari aprile e maggio possono assolutamente possono assolutamente allungare la stagione quindi prendere quel target di clientela per cercare di destazionalizzare il più possibile ecco in questo 2024 avete notato una differenza anche sulla tipologia di turista tra l'italiano e lo straniero ma siamo siamo molto contenti perché quest'anno abbiamo rivisto i turisti tedeschi che avevamo perso in passato l'obiettivo va anche in quella direzione lì cercare sempre di prendere su un turismo anche estero soprattutto il mercato chiamato dac quindi deutschland austria e svizzera e sulla germania nel progetto diciamo che c'è anche una vorremmo anche una collaborazione con la regione per sviluppare anche l'aeroporto comunque di ancona perché abbiamo visto che ci sono voli giornalieri per monaco di baviera che è praticamente il nostro bacino prevalentemente di utenza tedesca e intanto scavallato ferragosto continua la ricca serie di appuntamenti anche in questa seconda parte di agosto per quello che riguarda pesaro capitale della cultura l'estate da capitale di pesaro 2024 non termina con il periodo di ferragosto bensì prosegue con tanti altri appuntamenti importanti in programma sì assolutamente intanto abbiamo in corso ancora la mostra di numero cromatico e alla centro tv pescheria proprio a proposito di centro tv e di piazzale della creatività e tra la pescheria e liceo artistico mengaroni uno dei progetti che partirà il 17 di agosto e archivio viqui un progetto curato e legato alla figura di massimo di massimo del cini e che rappresenta una punto di unione tra quella che è la creatività contemporanea e quello che come raccontato nel dossier è anche parte della della storia che ha contribuito a fare la forza e la spinta di pesaro di pesaro 2024 in attesa del grande evento che inizierà il 30 agosto fino al 12 settembre di sakamoto il progetto kagami questo concerto un'anteprima europea che va a ricostruire in maniera virtuale tecnica di realtà mista è una prima esecuzione realtà del dell'ultimo capolavoro del mezzo sakamoto scomparso esattamente un anno fa e che per la prima volta viene rappresentato in sua assenza ma in presenza di strumenti digitali che se lo faranno percepire come come presente in questa prima sicuramente anomala ma carica carica di fascino in più a fine mese prosegue il 27 di agosto anche il ciclo di interventi di artisti nei quartieri e sarà la volta di matteo fato già protagonista di numerose attività peso da una mostra in pescheria un'altra in progetto 1 in musici civici questa volta con un intervento molto poetico suggestivo e anche d'impatto e nella non diciamo molto di più insomma nel cosiddetto pennello in bea famiglia quindi bea famiglia dagli scogli si potrà ammirare un'altra opera che giocando sull'idea della natura della cultura però fissarà un altro punto di bellezza in questo progetto multiforme che nasceva dalle sculture in città di pomodoro del 71 che sta diffondendo grazie ai contributi di tanti artisti tanti segni condivisi con i quartieri le assessore comunali di pesaro alle manutenzioni alle politiche educative mila della dora e camilla murgi hanno effettuato sopralluoghi in due strutture di villa san martino come la grande quercia e la lilliput che si presenteranno riqualificate al via del prossimo anno scolastico di settembre 30 mila euro di lavoro e la grande quercia per la rifunzionalizzazione degli spazi che dall'inizio dei settembre accoglieranno una nuova sezione primavera composta da 15 bambini che già hanno fatto domanda lo scorso gennaio i lavori prevedono la realizzazione di un'area attività una zona dormitorio un bagno e un'area esterna proseguono anche gli interventi del valore di 90 mila euro alla lilliput che comprendono una ristrutturazione complessiva degli spazi interni ed ora lo spazio dedicato alle segnalazioni di voi telespettatori che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero whatsapp dedicato 370 366 72 10 non bastasse il caldo persistente l'afa diventa ancora più insopportabile quando metti un piede fuori di casa e ti ritrovi immerso negli scrementi di piccione e questa una delle segnalazioni recapitate a rossini tv da alcuni abitanti di via massimi porzione residenziale del centro storico che affaccia sul giardino della biblioteca san giovanni residenti che d'ormai tre anni raccontano come si trovano costantemente ad armarsi di secchio e straccio per ripulire i propri pavimenti dalle deiezioni di volatili senza che nessuno si adopere a trovare un deterrente per snidare l'addensamento dei piccioni fra tetti e cornicioni problemi di gestione spesso fra privati ancor più pesanti se nessuno si incarica della pulizia è il caso di un'altra segnalazione che riguarda il centro commerciale sulle due di via togliatti che spesso si presenta come un tappeto di escrementi inconciliabile con le tante attività commerciali e di uffici presenti a poche decine di metri c'è poi un'altra situazione di abbandono denunciata più volte nel quartiere di villa san martino quella del parco di via mercadante dove i giochi per bambini danneggiati rimangono inutilizzati da tempo segnalazioni anche dalla zona mare dove i residenti di via cavallotti enfatizzano come sia difficilmente utilizzabile il sottopassaggio pedonale con via della vittoria fra persistente odore di urina e abbandono di rifiuti zona mare in cui a levante c'è chi segnala invece la totale assenza di illuminazione nel tratto di pista ciclabile retrostante alla scuola alberghiera ci sono invece ciclabili nuove come quella di vismara affiancate da marciapiedi fatiscenti come ci segnalano i residenti di via basento vi ricordiamo il numero dedicato alle segnalazioni rossini tv 370 366 7210 compie 35 anni l'università dell'età libera in questo anno di pesero capitale della cultura annuncia anche una nuova modalità di iscrizioni in vista dell'anno accademico 2024 2025 come ogni seconda metà d'agosto si rimette in moto l'imponente macchina didattico culturale dell'università dell'età libera di pesero che per il suo 35esimo anno accademico si presenta con 98 corsi e uno start alle iscrizioni fissato per il 5 settembre lo stimolo maggiore che noi abbiamo per portare avanti questa iniziativa che ripeto è tutta di su base di volontariato è la città che chiede i corsi chiede di poter occupare un periodo che va da settembre a aprile maggio con delle attività o manuali o culturali in un modo concreto e pratico ma non soltanto per imparare qualcosa per approfondire qualcosa ma anche per socializzare e quindi l'ambito in cui ci possiamo muovere molto ampio e su questa scia continuiamo ad andare avanti pensate che quest'anno abbiamo 98 corsi in totale di cui otto corsi nuovi 98 corsi divisi in nove aree tematiche di cui soltanto il laboratorio artistici e manuali sono 23 corsi voi capite che un ampio spazio che si dedica non soltanto a quello che è la letteratura alla filosofia che cicchi che le lingue ma anche proprio alla manualità alla ricerca di quelle di quelle capacità artistiche che sono nella città sono patrimonio della città e che vengono riprese dei nostri docenti ma la cosa principale di quest'anno è la modalità di iscrizione la modalità di iscrizione è una cosa importante serve ad alleggerire la segreteria e a rendere più comoda anche per tutti gli iscritti in modo di iscriversi registrazioni dunque soltanto in via telematica ma con la segreteria comunque aperta per supportare all'iscrizione con una modalità già utilizzata allo scorso anno da due terzi dei 1700 iscritti ai corsi mentre prima avveniva in maniera più manuale tramite un'email e poi bonifici eccetera abbiamo voluto renderlo strutturale quindi si andrà nel sito dell'università si registrerà e poi si potranno fare i pagamenti tramite carta di credito paypal satis pay esattamente come si compra un biglietto per un concerto come per un biglietto del teatro è la stessa identica modalità di piattaforma abbiamo voluto utilizzare per semplificare il lavoro sia della segreteria che dell'utenza considerato appunto il numero elevato che è presente visto che dopo il covid quello che sembrava una situazione emergenziale per cui si erano stati costretti passare all'iscrizione online abbiamo invece constatato che è un qualcosa di durature costante che viene richiesto dalla maggior parte degli utenti questo piccolo cambiamento come ogni cambiamento all'inizio potrà comportare qualche difficoltà per la novità ma è una difficoltà che avrà il supporto della segreteria sempre a disposizione dove anche lì si potrà iscrivere personalmente come diceva il presidente pagare tramite carta o satis pay o contanti ovviamente partirà dal 5 settembre alle 9 e mezza questo vale sia per l'online che per chi si ricerà fisicamente in segreteria perché la procedura sarà esattamente la stessa cioè in segreteria l'iscrizione avverrà verrà fatta nella stessa identica maniera in cui si fa online solo che ovviamente ci sarà una detta che lo farà quindi non c'è una gara una competizione fra l'online e la segreteria fisica perché tutti dal 9 e mezza del 5 settembre potranno partire a iscriversi all'università e ai singoli corsi che sceglieranno e prosegue la ricca estate di appuntamenti di teatro dialettale all'arena bcc di fano prossimo appuntamento il 22 agosto con la compagnia senigallese la tela porteremo in scena contenti come una pasqua che è una commedia appunto dialettale che si svolge negli anni 50 e in una famiglia tranquilla in cui non succede mai niente e in cui il tran tran quotidiano proprio ecco però piove tutta un tratto una situazione straordinaria la figlia si innamora niente poco di meno che di un uomo sposato 1950 e da qui una serie di situazioni paradossali perché la figlia è arrabbiata perché giovane e comunque ha già altre idee la madre lo è di più lo zio prete potete immaginarvi quale sarà la sua reazione e così via via i vicini di casa tutti quanti partecipano di questo lutto familiare della figlia incinta cosa dirà tutta la città di senigallia ma 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 laura ma basta basta detto anche troppo vi invitiamo a venire a ridere con noi e il post ferragosto dal via il precampionato della vl con la squadra che si ritroverà domani presso fisio clinic per le ultime visite mediche dopodiché l'intero gruppo partirà domenica mattina in vista del ritiro di carpegna che terminerà il 26 agosto il giorno seguente ovvero il 27 agosto al pala megabox in programma un allenamento a porte aperte con i tifosi che il 28 agosto alle 18 e 30 potranno assistere ad uno scrimage contro fidenza sul parquet di sant'angelo in vado agosto che si chiuderà con un match amichevole con la virtus e gaffredo bologna in calendario per sabato 31 agosto e invece già partita la pala di onigi di montecchio la preparazione della megabox vallefoglia in vista del campionato dia 1 dei volley 2024-2025 agli ordini di coach andrea pistola lavorano tra palestra e piscina vittoria cozzar simon li francesca micheletto sonia candi barbara torcolacci chiara de bortoli alice feduzzi e erblira bici al loro fianco anche alice de gradi reduce dall'intervento al ginocchio e alla prese con la graduale ripresa dell'attività partirà invece il 19 agosto al tecnovull rugby park di muraglia la preparazione precampionato della fiorini pesaro rugby al prossimo campionato di serie a che vedrà i kiwi debuttare il 13 ottobre in casa con il rugby casale si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale rossini news però subito dopo questo tg un nuovo spazio dedicato al magazine la natura della cultura andremo a scoprire la prossima settimana del progetto capitale al quadrato dedicato a mondolfo capitale al quadrato tra musica storia e tradizione in una settimana capitale che inizierà il 19 di agosto appuntamento che sarà accorpato alle altre puntate di questa settimana anche domani alle 12 alle 19 e domenica alle 15 e alle 21 e poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la nona puntata di estate capitale il nostro format dedicato a tutto ciò che accade in questa particolare estate di pesaro capitale della cultura e questa sera vedremo un'alba capitale per saperne di più non perdetevi la puntata condotta in questo caso dal nostro paolo pagnini a partire dalle 21 e 20 e poi l'informazione di rossini tv che torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con buongiorno rossini rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione di questo 17 agosto sarà condotta dal nostro marco cadendo si chiude invece qui questa edizione del 16 di agosto di rossini news vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi